Mi piace, no? Al fine. Io vorrei un grosso applauso con questi band alle mie spalle. Perché sta suonando tutti i posizioni diversi. Ognuno di noi ha il suo stile, ognuno ha le sue piccole rotule di palla che ci portavano sul palco. Io vorrei fare un pezzo mio e un pezzo non mio. Quindi, tecnicamente, si chiama come? O quello che va avversione. Però intanto farò un pezzo mio dedicato a Matteo Sansonetto che gira a fare cose. Come sei Matteo? Si titolano i colleghi. Ed è dedicato a quelli che a fine mese rimangono senza schiena. Ma io prima di fine mese? Io, io ho i dati. Ho un progetto. Rani con M2. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti